Ci sono 200 tavoli di crisi al Ministero dello Sviluppo Economico e non c'è il Ministro, non c'è il massimo responsabile, ma noi stiamo dedicando tutte le nostre forze a come rilanciare la crescita e soprattutto a come assicurare e garantire con nuovi strumenti, con nuove regole, con nuove relazioni industriali la sintesi tra la crescita economica e il diritto al lavoro e il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori. Purtroppo siamo entrati, la crisi è tanto forte che rischia di travolgere anche quelle che ritenevamo essere alcune certezze. Al governo va bene così, perché io penso che al Ministro Sacconi vada bene che si verifichi quello che si sta verificando, a noi no e credo che questo sarà il vero contenuto della nostra campagna elettorale che sia o meno comunque della nostra campagna.